Grande festa questo pomeriggio all'impianto sportivo forese dove piccoli trapanesi hanno incontrato i calciatori Granata, il mister Torrisi e il presidente Valerio Antonini che ha voluto lanciare un messaggio alla città. Il mondo del calcio è un mondo dove bisogna entrare per vivere lo sport a 360 gradi, per vivere i valori veri dello sport che non sono purtroppo quelli che spesso gli adulti dimostrano in televisione ma sono i valori dell'aggregazione, del divertimento sempre con la finalità di vincere perché poi alla fine chi fa sport lo fa per vincere, certo non solo per partecipare. Però con una sana voglia di giocare rispetto degli avversari, queste sono cose che purtroppo oggi sono state perse perché gli interessi legati alla vittoria sono troppo più importanti del gioco. Sono veramente contento soprattutto di vedere tanta partecipazione, la gente di Trapani deve cominciare a vestire la maglia del Trapani e fare il tifo per la squadra della propria città. E quello sarà il primo successo perché come in quasi tutte le città del sud la maggior parte della popolazione tifa per le squadre del nord e questo significa praticamente portare via una grossa fetta dell'indotto che ogni città genera e che non porta poi valore aggiunto alle società di appartenenza. Tanto l'entusiasmo dei bambini e delle famiglie presenti che finalmente hanno potuto incontrare i propri beniamini, tanto l'amore dimostrato nei confronti del presidente Antonini che in questi mesi è stato capace di far appassionare nuovamente tutta la città verso lo sport. Ma al di là del presidente acclama l'idea di appartenere alla società, ai colori che erano stati un po' persi negli ultimi anni per le vicissitudine che sappiamo e quindi tutta questa passione dimostra che c'è voglia di sport, c'è voglia di calcio e soprattutto c'è voglia per i ragazzi di avere quel sogno che da bambini tutti gli anni è di diventare un giocatore professionista e che noi come io come presidente e tutto il mio staff come organizzatori, come allenatori dobbiamo dare questa opportunità a tutti di avere questo sogno il più a lungo possibile poi ovviamente tra di loro ci saranno quel 2, 3, 4% che riuscirà a avere una chance per diventare professionista, però l'importante è che l'aggregazione che vediamo continui, anzi negli anni successivi sia sempre maggiore. Grazie.